Cecilia Rodriguez ha scritto un messaggio a Francesco Monte prima dell'Isola dei famosi? Eva Enger lancia lo scoop. Cecilia Rodriguez e Francesco Monte si sentono ancora? Il gossip di Eva Enger. Eva Enger continua a fare rivelazioni su Francesco Monte. Dopo aver confidato nel corso della seconda puntata dell'Isola dei famosi che l'ex tronista di Uomini e Donne ha fumato marijuana in villa, l'attrice ha lanciato un succoso gossip che coinvolge Cecilia Rodriguez. La madre di Mercedes Enger ha parlato di un messaggio che la sorella di Belen avrebbe mandato al Tarantino prima della partenza per l'Honduras. In realtà Eva ha spiegato la situazione in maniera piuttosto confusa, tanto che sono molti i telespettatori che chiedono di lucidazioni su tale confessione. Queste le parole della Enger, noi abbiamo parlato moltissimo prima di arrivare qua. Conosco tutta la storia della famiglia Rodriguez. Lui ha detto di non aver mai parlato con me e non è vero. Mi ha dato molto fastidio. Mi ha perfino rivelato di aver ricevuto un ultimo messaggio prima di partire. Il messaggio è davvero di Cecilia? La Enger ha dunque spifferato qualcosa che doveva restare segreta?. Cecilia e Monte continuano ad avere lo stesso agente. . In attesa di delucidazioni, va precisato che Cecilia Rodriguez e Francesco Monte continuano ad avere lo stesso agente, ovvero Stefano, il fratello del pugliese. Stefano Monte segue, tra i tanti, anche Geremias Rodriguez, di cui è un amico intimo. . I rapporti tra la famiglia Rodriguez e quella Monte non si sono quindi interrotti dopo laddio tra Cecilia e Francesco. . Che l'Argentina abbia voluto mandare all'ex fidanzato un messaggio di incoraggiamento. . E magari pure qualche consiglio visto che la Rodriguez ha partecipato allo stesso programma nel 2015? . E altra domanda, Ignazio Moser è all'oscuro di tutto oppure no? . Insomma, si attendono chiarimenti. . . . . .